Voglio cercare di essere un po' ottimista, nel senso che tutto quello che abbiamo sentito è assolutamente vero e quindi questo per me è ottimismo, nel senso che il mercato finalmente è cambiato, è un mercato dove non c'è più solo un mercato core oggi, anzi direi che in Italia è un mercato core, un mercato ormai estremamente sottile, ipercompetitivo, dove appena esce un ufficio Milano in vendita si uccidono in 45 per arrivare al 2,75, 3% di cap rate. Nella realtà dico che oggi in Italia c'è un mercato enorme che è il mercato delle special situation, ormai è anni che conviviamo con questa situazione e anni che dico che dai 7 ai 10 miliardi di transazioni l'anno più o meno l'80% sono derivati da questo tipo di ingegneria legata alle special situation, special situation che è originata da dove? Dal mondo degli NPL, l'abbiamo sentito prima Massimiliano, dal mondo degli UTP prossimamente, dal mondo di tutto quello che in anglosassi chiamano special situation che si avvicina al distress o nasce da lì. Questo paese è così, dobbiamo smaltire 165 miliardi tra NPL e le UTP nei bianci bancari, la BCE l'ha rinnovato ancora pochi giorni fa, in 7 anni devono andare a zero, quindi immaginate che cosa vuol dire. Vengono venduti? Beh, vengono spostati, forse al termine più corretto, l'ha detto prima Max, non è che si sono risolti i problemi. Queste cose vanno parcheggiate e vanno lavorate, quindi per chi lavora secondo me nel mercato immobiliare questa è una grande opportunità, noi lo facciamo un po' da qualche anno, siamo cresciuti acquisendo special situation, oggi ci stanno dando i loro frutti e credo che questa direzione per ancora un po' di anni, finché dal punto di vista macroeconomico non si troverà un equilibrio, cosa che non c'è. Oggi sono tutti lì che dicono 0,4, 0,6, 0,3, zero e secondo me al secondo trimestre arriveremo al segno meno, perché poi tutti i giornali iniziano a titolare recessione, però da quanti anni che conviviamo con questa situazione? Vediamo che comunque è un mercato che su alcune piazze come Milano è un residenziale parte, però credo che nel real estate, nel mondo della finanza applicata al real estate ci sia grande necessità di crescita di competenze, dove non è più solo finanza, ma la parte di asset management è la parte che guida tutto, quindi se si vuole creare valore partendo da opportunità e problematiche che hanno sostanzialmente fatto un grande lavoro di repricing, perché questo è quello che è successo negli ultimi anni col mondo guidato dal mondo dei deteriorati delle sofferenze bancarie, ma anche da altro, si arriva oggi a poter rilavorare determinati portafogli immobili, idee immobiliari, perché spesso sono idee, quindi sono terreni e da questi ripartire con un ciclo. Non vedo oggettivamente le condizioni per cui oggi questo mercato possa passare, io parlo per il mercato dei fondi, da 50 a 100 miliardi senza, voglio dire, prima aver messo a posto almeno una parte di questo stock, perché è uno stock enorme e prima che venga digerito dal mercato questo stock enorme ci vorrà ancora tanto tempo. Ci sono tanti operatori oggi sul mercato che hanno acquisito a vario titolo parte di questi crediti e parte di questi crediti oggi che hanno l'underline immobiliare, considerate che l'ultima stima che ha due banche d'Italia sia che circa il 40% dei 160 miliardi di euro abbia un sottostante immobiliare, quindi stiamo parlando di 60-65 miliardi di crediti, poi questo è il valore lordo, il valore netto è sensibilmente più basso, ma anche se lo dimezziamo è più o meno il 60% del mercato dei fondi immobiliari oggi in Italia. Quindi l'opportunità secondo me c'è, bisogna essere ottimisti, bisogna lavorare su questo, credo che non manchino i capitali per fare questo, perché oggi a livello internazionale c'è una eccessiva presenza di capitali, forse Max può dire all'inizio quando loro sono stati tra i primi in Italia a partire nel mercato di NPL, oggi ogni banca fa una gara dove si presentano 10, 15, 20 soggetti, quindi oggi i capitali ci sono, hanno bisogno di competenze, perché sovente questi capitali non hanno poi a livello locale chi li giustisce. Volevo riallacciarmi un po' a quello che diceva Puriprima in merito a questi soggetti che dovrebbero stabilizzare il mercato, sì è verissimo, questa è una grandissima mancanza del nostro mercato ed è il vero tema che manca oggi. Ancora una volta cerco di essere ottimista, io credo che nei prossimi anni questi soggetti nasceranno, anche molto incentivati da questi grandi investitori istituzionali che oggi in questo paese hanno investito svariati miliardi di euro e prima o poi troveranno un exit ai loro investimenti. Il vero tema è la credibilità di riportare il mercato retail e quindi la borsa sostanzialmente su questo tipo di prodotto. Se andiamo all'estero, negli Stati Uniti, in Inghilterra, anche vicino a noi, in Francia e in Germania, questo è un prodotto che viene sottoscritto molto al mercato retail, le condizioni sono molto diverse, quindi tutto il fenomeno che viviamo oggi di repricing e di quant'altro porterà a quei tipi di prodotto. Perché se voi andate a vedere oggi le alter ego delle nostre SIC a livello internazionale sono mediamente 5-10 volte più grandi, la più piccola, mediamente offrono rendimenti stabili che non scendono mai sotto il 4-5%, quindi per arrivare lì ci vorrà un po' di tempo, ma credo che ci si arriverà, se no non ci sarà mai un exit al prodotto che oggi deve essere lavorato, trasformato e ringegnerizzato. È vero, come diceva Max, ci sono dei problemi tecnici, giuridici poi nella trasformazione di tutto quello che oggi genericamente chiamiamo special situation che va dal credito o quant'altro, però lo si affronterà ed è il motivo anche per cui parecchi capitali internazionali oggi sono presenti su questo mercato.